Siamo Gianluca Doppietta, direi che è stato merito di tutta la squadra che ci abbiamo creduto in questa vittoria e per martedì inizieremo a pensarci da domani. Sicuramente quando le punte non vanno a segno si sa che un po' si fatica a fare risultati e per una punta è sempre importante fare gol quindi sono veramente contento di aver dato una mano alla squadra a finalizzare e speriamo di continuare così. Con il mister avevo detto di pensare partita per partita quindi di non porci obiettivi e di giocare sereni e quindi noi adesso penseremo al Brescia. È un gesto che abbiamo studiato insieme alla mia ragazza quindi diciamo che riporta un po' a lei quindi è per lei.